Il mondo e i consumatori stanno cambiando a un ritmo più veloce che mai. Il passaggio dal concetto di cura a quello più ampio e olistico di benessere, il migliore accesso ai farmaci, l'urbanizzazione e la digitalizzazione stanno cambiando la categoria salute e benessere e la pandemia non ha fatto che accelerare i trend già in atto. I consumatori oggi sono dunque sempre più alla ricerca di prodotti e marchi affidabili, sicuri ed efficaci, ai quali fare riferimento anche per la prevenzione quotidiana, con l'obiettivo di godere di una vita più lunga e il più possibile lontana da malesseri e malattie. P&G ha intercettato questi bisogni e lancia Bion3, integratore che risponde al rinnovato bisogno di supporto al sistema immunitario. Marco Faraone, Vice President P&G Personal Health Care Italia. Proprio per rispondere a questi bisogni, P&G ha deciso di innovare ancora lanciando Bion3 Difese Immunitarie, che è un prodotto dalla innovativa formula 3 in 1, a base di microrganismi minerali e vitamine, che è in grado di supportare il sistema immunitario. Si tratta di un prodotto già leader in Francia, che ora arriva anche in Italia per rispondere a questi bisogni e anche contribuisce a rafforzare la divisione Health Care, una divisione di Procter & Gamble che ha una impronta geografica particolarmente rilevante, essendo presente e attiva in oltre 70 paesi con 3500 dipendenti. Quello di Bion3 è anche un esempio della strategia di P&G Health nel rapporto con i consumatori. Ancora Faraone. La strategia si fonda su tre punti fondamentali. Il primo è il consumatore. Noi partiamo dai bisogni del consumatore. Il secondo è l'innovazione e la facciamo attraverso il ricorso all'ampio portafoglio di scienza, di tecnologia di cui possiamo disporre. La terza è la proposizione, un'offerta che sia completa al 360 gradi, quindi il prodotto per incontrare le esigenze dei consumatori, ma anche tutti gli aspetti che sono intorno al prodotto e che contribuiscono a soddisfare gli altri bisogni dei consumatori. Ad esempio la confezione, quindi il packaging, ma anche la comunicazione, i supporti di marketing in forma pubblicitaria e anche all'interno dei punti vendita delle farmacie, fino ad arrivare alla comunicazione tecnico-scientifica che noi mettiamo a disposizione degli operatori del settore, in particolare dei farmacisti. La pandemia, come detto, ha aumentato l'interesse dei consumatori rispetto a ciò che si può fare per supportare le nostre difese immunitarie. Da una ricerca commissionata da P&G a Ipsos lo scorso luglio, è emerso che l'82% degli italiani negli ultimi sei mesi, quindi da gennaio, ha cercato di aumentare le proprie difese immunitarie e il 46% lo ha fatto assumendo vitamine, minerali e integratori. Mari Dalisi, direttore comunicazione scientifica P&G Health Care. Bio 3 Difese Immunitarie è un integratore alimentare in compresse formulato per adulti, con una formulazione unica contenente tre ceppi di microrganismi, 12 vitamine e 7 minerali, ciascuno dei quali contenuti in uno dei tre strati della compressa. La compressa, inoltre, oltre ad avere questa stratificazione molto particolare, è anche rivestita con un rivestimento brevettato, in maniera da far arrivare i microrganismi vivi all'interno del nostro intestino. Il lancio di Bio 3 è sostenuto da una comunicazione distintiva sia in TV che sul digitale, da materiali di impatto in farmacia e da un'informazione tecnico-scientifica costante verso i farmacisti. Il lancio di Bio 3 è sostenuto da un'informazione tecnico-scientifica costante verso i farmacisti.